Meri Confezioni, l'azienda martigiana che produce capi spalla per i più grandi marchi italiani distribuiti nel mondo. Saldi! Meri Confezioni! A un vero prezzo di fabbrica, offre anche su misura abiti classici, giacche sportive, pantaloni, jeans e tutti gli accessori che rendono raffinato e alla moda ogni uomo. Saldi! Meri Confezioni! Vi invita ai saldi di fine stagione. Vieni e valuta la nostra qualità e il prezzo di fabbrica ulteriormente scontato. Saldi! Meri Confezioni! A14 San Benedetto del Tronto, Ascoli Mare, uscita Castel di Lama, vicino Città delle Stelle. Vi aspettiamo per i saldi!